Compari ciccio, adesso tocca a te. Un nostro amico ha lasciato il computer incustodito. Cosimo, viene ad accendere il computer del nostro amico. Cosimo, viene ad accendere il computer del nostro amico. Ma come? Conosci la password? Oh. Da, 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 da. Wait and write. Wait and write. Wait and write. Cosimo, viene ad accendere il computer. Wait and write. Now? TRIP! Ciao TRIP! Operativi! 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 Questo andrà tutto... Operazione a TRIP! 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 Ti facciamo pure eccoci qua! Ragazzi... Ragazzi... Secondo me... Secondo me... Secondo me... Secondo me... Secondo me no... Secondo me si incazzerà tantissimo... Secondo me lo prendo io me vi da una donazione. E' iniziato la guerra ragazzi... Personalmente... E' giusto... Operazione pennello! Caro ciccio... L'operazione pennello... E lo sei meritato... E lo so che mi stai già carando il mio... Ma tu te lo sei meritato... Te lo sei meritato... Te lo sei meritato... E' carando anche il mio... Bastardo! Vi ricordiamo... Caino! Barda! Titoso! Caino! Caino! Nierro! Wait and write! 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 Wait and write!